La Chiesa in Cina, soprattutto in questo momento, ha bisogno della preghiera della Chiesa universale. Invito in primo luogo tutti i cattolici cinesi a continuare e a intensificare la propria preghiera, soprattutto a Maria Vergine Forte, ma anche per tutti i cattolici del mondo. Voglio pregare per la Chiesa che in Cina deve essere un impegno. Quei fedeli hanno diritto alla nostra preghiera, hanno bisogno della nostra preghiera.